Beh, diciamo che è una realtà, quella di Foggia, che io non conosco benissimo. So però che il Presidente Biancofiore, con cui noi ci vediamo costantemente sul tavolo pugliese, sta operando molto bene, sta operando una svolta e questo di questa attività, di questo protocollo e di questo coinvolgimento dei cantieri, di questa lotta, ne è un esempio. Lui è stato il primo a lavorare in questo senso e noi adesso lo seguiamo a ruota anche sugli altri territoriali perché è preso un po' ad esempio questo sistema Foggia dei costruttori che sta portando un'attività concreta di contrasto alla criminalità. Ritengo che sia un periodo buono però perché devo dare atto alle forze di polizia, alla magistratura, alla prefettura di fare un ottimo lavoro e sono sempre disponibili e secondo me si stanno avendo dei grossi risultati. Io spero che si vada avanti così. Grazie.